Siamo qua per un'iniziativa che indubbiamente è molto interessante perché il risparmio energetico riguarda sicuramente i tecnici, riguarda sicuramente i politici, ma sicuramente riguarda tutti i cittadini. Chiaramente non è questa la sede per parlare di profili giuridici che tratterò poi più avanti perché sono forse roba da specialista e mal si prestano in poche battute. L'unica espressione con cui vorrei tutto sommato sottolineare è l'importanza di questi eventi che forse dovrebbero essere incrementati e dovrebbero essere diffusi sul territorio perché sono istituti la cui importanza, lo dico con grande fermezza, tocca a tutti i cittadini.